Serve Apsho, consegna per Voivoda, tripla, tentata e mandata a bersaglio da parte di David Voivoda, dunque sorpasso. Voivoda ancora protagonista del finale di terzo quarto, step back laterale contro Lolo Derpolo, solo cotone. Reggio si affida al Magiaro. Fatturato fino a questo momento di Peppe Poeta che va a rimettere. Palla per Voivoda, il go to guy, indubbiamente per Reggio Emilia, il giocatore ungherese subisce il ritorno di Reggio. Voivoda ancora da tre punti, in piena fiducia, ancora David Voivoda. Poeta sotto per Voivoda. Ancora l'ungherese alza il floater, trova ancora il canetto, David Voivoda. Fontecchio in punta, ancora per Voivoda, con la tripla, che vede il canetto come una vasca da bagno. E adesso sì, è la miglior prestazione in stagione per David Voivoda. Conditi anche con sei rimbalzi, Voivoda praticamente un giusto in bagno, ha anche il tempo di baciare la tabella. Glass with glass, direbbero in America. Sì, grazie.